Un proiettile sul Gra che sfreccia quasi 300 chilometri orari, poi le urla e lo schianto contro New Jersey nei pressi della via Casilina. È morto così Orsurs Brischetto, giovane rom di 22 anni, gravissimo l'amico residente ad Aprilia che viaggiava in auto con lui ed una donna in stato interessante colpita da un frammento dell'auto. Il video della folle corsa girato dall'amico che era con lui è stato postato sui social ed è diventato virale in pochi minuti. Nella sequenza si vede lo zigzagare dell'Audi R8 tra le altre vetture lungo il grande raccordo anulare. Sorpassi a destra, cambi di corsie con una velocità da pista automobilistica. Il contachilometri inquadrato aveva superato i 294 chilometri orari poco prima che il video si interrompesse bruscamente. L'auto distrutta con i corpi dei due ragazzi incastrati tra le lamiere. Quando i vigili del fuoco hanno estratto i due feriti, Orsurs era in fin di vita, trasferito al policlinico di Tor Vergata e morto poco dopo. L'amico, anche gli di origini rom, è ricoverato in gravi condizioni al policlinico Casilino. Ferita una giovane donna incinta che era a bordo della sua auto quando è stata colpita da alcuni pezzi della R8. Lei e il bambino non sono in pericolo di vita.